Ma tu l'hai vista questa? Ho mandato le foto sul telefonino, è figa. Allora com'è? Sembra messa bene, però non si vede la faccia. Dai c'è un culo da paura, è figa. Ho capito, però se poi ti faccia un cesso è un cazzo tutt'uno, no Michè? Ti vorrei ricordare che noi siamo nella merda. Se salta questo appalto noi ci giochiamo tutto. Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini? Ma che cazzo me ne frega Rita? Ma Cico è un cane e i cani da che mondo è mondo sono carnivori. Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane. Notevole no? Notevole un cazzo. Ma è uno scherzo. Perché? Come perché me l'hai vista? Tu è cinese vista? Cinese. Un po'. Affaffa. Quindi che sappiamo di questa? Ho detto che fa l'università e che se la paga faccia andare a ballerina. Quindi non siamo neanche sicuri che fa l'escorto. Stasera c'è un ospite molto importante. Ecco diciamo che a me servirebbe che tu dopo la cena lo accompagnassi nel bello. e passassi la nottata con lui. E qui stasera c'è qualcuno che mi vuole corrompere. Vero Franco? Sì. Ma non mi permetterei mai. A quel punto l'hai castigata sì. E certo. L'ho portata in albergo con me quella sera stessa. Che mignotta. Adesso Gaia mi è moglie. Vai se ne botta.